Buongiorno a tutti, oggi sono qua per rispondere a una delle domande che forse è stata più gettonata nell'ultimo mese. Vi chiedo anche scusa se i video non escono con regolarità, ma veramente cerco di mettercela tutta per montarli, registrarli e quant'altro. Però col lavoro è anche una questione di incastro di tempi. Di che domanda sto parlando? Sto parlando della domanda, ma perché monti senza cap? Perché non porti il cap sotto alcune foto, sotto alcuni video che io posto, anche su Instagram? Allora, la domanda ha una risposta semplice ma complessa. La risposta più semplice è perché sono ultramaggiorenne, ho 26 anni, quindi posso anche montare senza cap, è una mia personalissima scelta. In più ci sono tante varie cose da spiegare. Allora, intanto io monto senza cap, solo ed esclusivamente se devo fare lavoro in piano, se si tratta di saltare, crocettine, saltini molto piccoli di 20 cm e nemmeno. E molte volte mi hanno detto, ma potresti anche cadere? Sì, ma se io vivessi nell'esse non vivrei mai perché uno potrebbe uscire di casa ed essere investito e quant'altro. E allora non si potrebbe più vivere. E' ovvio che se devo fare un percorso o salti comunque singoli, più alti di determinate cose, allora per più alti di determinate cose intendo più alti di 50 cm, 60 cm, allora io metto il cap. In più c'è anche un'altra cosa, le foto che voi vedete molto spesso sono foto di fine lezione, quando io finisco di saltare, il mio istruttore mi dice Hai finito di saltare, devi solo trottare altri due minuti e poi passeggiare. Io tolgo il cap. Io il cap in realtà, anche se è una cosa necessaria, che per le gare si deve mettere e si deve mettere anche per saltare, si deve mettere sempre, però ripeto, sono maggiorenne quindi posso scegliere quando e non, quando metterlo e quando non. A me il cap è una cosa che veramente mi rende ansiosa e confusa, perché nel momento in cui lo metto ho la sensazione, vi dico quello che può essere poi che nessuno la pensi come me, ho la cosa come me lo sto mettendo, allora è sicuro che dovrò cadere, allora è sicuro che dovrò fare qualcosa male. Quando non me lo metto questa, anzi siccome proprio perché non ce l'ho le cose devono andare bene, allora mi, come si dice, il mio cervello non se ne va a fa' un bagno fondamentalmente e quindi questo. Per quanto riguarda il fatto ansia e cadi, ragazzi sono caduta tante volte con il cap, senza cap, mi sono fatta male uguale sia con il cap che senza cap. Quando sono caduta varie volte col cap, anzi vi dirò, mi sono fatta più male quando sono caduta col cap che non quando sono caduta senza cap. Se ci si deve far male o se deve succedere qualche altra cosa, succede comunque, sia che lo si abbia sia che non lo si abbia, perché se dobbiamo andare anche su quest'ottica, allora dovremmo tutti indossare sempre il corpetto perché si potrebbe rompere qualcosa. Le mie motivazioni per cui non lo metto sono queste, non sono di chissà che spiegazione, non sono di chissà quale genere è importanza, però in realtà sono queste. Quindi, niente, era un piccolo video per spiegarvi i motivi per il quale non lo metto. Non sto dicendo che quello che faccio io sia corretto, ma siccome mi è stato chiesto, io dico che questo è quello che faccio io. Punto, è perché lo faccio io. Niente, spero che vi sia, non lo so, vi sia chiaro nel senso il motivo per quale non lo metto, eccetera. Poi, ecco, un'altra parentesi, so con che cavalli posso non metterlo e posso metterlo. E in realtà io non lo metto più spesso d'estate, per ragazze d'estate anche il cavallo più pazzo del mondo, almeno qui in Sicilia, dove ci sono 40 gradi all'ombra, è tipo un cadavere che cammina. Quindi, il caldo, come influisce sull'essere umano, influisce anche sugli animali, quindi praticamente il cavallo è privo di energia. Quindi per questo è difficile che lo metta d'estate, anche perché col cap, ragazzi, si rischia veramente lo svenimento qui da me. Con tutto il cap Italia o tutti i cap che possono avere pure il condizionatore dentro, così rischia lo svenimento, perché comunque la gomma che c'è dentro il cap comunque porta un caldo d'inferno. E quindi per questo. E niente, questo era tutto il discorso, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!